La vita della Chiesa in Bielorussia e la pacifica convivenza tra le comunità cattoliche ed ortodossa del Paese, come pure tra le altre confessioni religiose, sono state al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica di Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ricevuto nel Palazzo Apostolico Vaticano. Nel corso dei colloqui, proseguiti poi con il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolina, accompagnato dall'Arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, è stato anche sottolineato il ruolo svolto dalla città di Minsk, capitale della Bielorussia, quale serie di alcuni recenti colloqui finalizzati alla ricerca di soluzioni per la pace nella regione, tormentata dagli scontri in corso nell'est dell'Ucraina.